Su questo tema che è un tema che suscita grande sensibilità e grande attenzione da parte dell'opinione pubblica, ci sono tante opinioni diverse, tutte rispettabili da parte mia, ma ci sono anche dei fatti e dei dati concreti che io citerò e sulla base di questi fatti e dati concreti che ho preso le determinazioni che sono state annunciate alla stampa. La prima è come lei ha citato questa lettera che ho scritto ai prefetti della Lombardia l'8 di giugno, che lascio agli atti, in cui dopo aver fatto una valutazione sull'afflusso di cittadini stranieri e sul tema dell'accoglienza, preciso che secondo i dati resi noti dal Viminale, non inventati da me, La Lombardia è la terza regione italiana dopo Sicilia e Lazio come percentuale di presenza di immigrati nelle strutture di accoglienza. In Lombardia, come lei ha ricordato, vive già oltre un quinto degli immigrati irregolari presenti in Italia, molti dei quali in cerca di lavoro. E' quindi impensabile, dico ai prefetti, di inviare in Lombardia altri immigrati prima di aver riequilibrato la distribuzione su tutto il territorio. Concludo dicendo, vi chiedo pertanto, è stata vista come un'intimazione, un ricatto, è una richiesta, vi chiedo pertanto, so bene da ex Ministro dell'Interno il rapporto che c'è tra i governatori, i prefetti, i prefetti e il governo. I prefetti, peraltro, non rispondono al Ministero dell'Interno, rispondono al governo. Vi chiedo pertanto di rappresentare con la massima urgenza le competenti strutture del Ministero dell'Interno le sue esposte considerazioni di sospendere le assegnazioni nei comuni lombardi, in attesa che il governo individui soluzioni di accoglienza temporanea più eque, condivise e idonee, che garantiscano condizioni reali di legalità e di sicurezza. Questa mia valutazione si fonda su due considerazioni. La prima sono i dati e la seconda è il rapporto tra la conferenza delle regioni e il governo. I dati. Noi abbiamo dei dati certi perché abbiamo costituito nel 2015 anni fa un osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità, ORIM, che è un organismo di studio e di ricerca, istituito dalla regione Lombardia e gestito da Eupolis Lombardia, che è l'istituto di ricerca della regione. Le attività di questo osservatorio regionale sono realizzate con la collaborazione della Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità ISMO. Dal 2000 questo osservatorio studia l'immigrazione e i processi integrativi sul territorio regionale, raccogliendo informazioni puntuali, sistematiche e affidabili sull'evoluzione del fenomeno migratorio e sugli aspetti sociali a esse connessi, mettendole a disposizione di istituzioni, enti locali, operatori dei servizi, associazioni, ricercatori universitari, insegnanti e di tutti coloro che sono chiamati a intervenire nel campo dell'immigrazione. Questo osservatorio ha rilevato che c'è stata una lieve ripresa del 4,4% dell'immigrazione dopo il calo precedente nel 2013. Nel 2013 c'è stata questa ripresa. Al 1 luglio dello scorso anno la presenza straniera stimata in Lombardia era di 1.279.000 persone, il 13% della popolazione in regione Lombardia. Il 13% è il dato più alto. L'ISTAT, secondo i dati ISTAT relativi al bilancio demografico nazionale, alla data del 1 gennaio 2014, risultavano regolarmente residenti in Italia 4.922.085 cittadini stranieri pari all'8,1% della popolazione residente. Quindi la media nazionale è l'8,1% in regione Lombardia, è il 13%. Questo dato è reso ancora più evidente e ancora più preoccupante se si considera, come ho detto, 4.922.000 nel 2014, nel 2015 abbiamo superato i 5.073.000. Se consideriamo che nel 2002 la popolazione censita di immigrati in Italia era di 1.341.000, cioè sono quasi 5 volte nel 2015 e la maggior parte di questi, come ho detto, vengono nelle regioni del nord. Parlo della mia regione, il rapporto è questo. 13% della popolazione contro l'8,1%. Sulla base di queste valutazioni io ho scritto appunto che la Lombardia, questa è la prima, la seconda, dati noti dal Viminale, la Lombardia è la terza regione avendo il 9% e ci sono regioni italiane che hanno l'1% degli immigrati che sono arrivati e che sono distribuiti dal Ministero dell'Interno. Per questo, considerando il sovraffollamento, o diciamo il fatto che la Lombardia ha la percentuale più alta, il 13% e che ha il 9% e la terza regione, prima di inviare le strutture sono al collasso, come si è visto anche ieri, in questo gruppo di immigrati abbandonati in stazione centrale, dove siamo intervenuti, noi come regione Lombardia abbiamo rilevato dei casi di scabbia, lasciarli lì in stazione centrale mi pare francamente una cosa impensabile in un paese civile. Per tutte queste valutazioni, sulla base dei numeri e non delle opinioni, ho fatto presente questa richiesta al Governo. Il secondo punto è che il Governo è inadempiente nell'attuare le iniziative che abbiamo concordato con le regioni sotto due profili. Il primo è la copertura economica che è stata garantita solo per il 2014 e non per il 2015 e il 2016. Nell'accordo stipulato tra le regioni e il Governo si stabilisce che i costi di questa redistribuzione sono tutti a carico del Governo. Per il 2015 e il 2016 non c'è certezza, ma soprattutto è inadempiente sotto altri punti di vista. E questa inadempienza è stata rilevata il 26 marzo del 2015 con una lettera inviata ai Presidenti delle Regioni e dalla Conferenza delle Regioni con cui si sottolineano le problematiche connesse al sistema di accoglienza dei migranti. Dall'incontro, conferenza unificata, governo del 18 marzo 2015, Ministero dell'Interno e Regioni, sono emerse alcune criticità. La prima è la mancata attivazione degli hub. Che cosa sono gli hub? Gli hub sono dei centri regionali fatti nelle regioni che dovrebbero invece della stazione centrale di Milano accogliere gli immigrati che vengono inviati prima di essere distribuiti sul territorio. Mancano questi hub, non c'è stata alcuna attivazione da parte del Governo. La seconda è l'accoglienza in strutture temporane. La terza è l'attivazione di hub per i minori stranieri non accompagnati. La quarta criticità è riferita allo Sprar. Sono criticità sollevate dalle Regioni e al Ministero dell'Interno che attendono ancora risposta. Ovviamente in assenza di questa attivazione da parte del Governo noi siamo in difficoltà perché non siamo neppure in grado di sapere quanti ne arrivano. vengono inviati nelle prefetture e come si è visto l'altro giorno nel Veneto, abbandonati in piazza a Montebelluna, il sindaco si è accorto che c'erano una ventina di immigrati perché l'ha visto su Facebook e non è stato avvisato. e francamente anche questo modo di gestire l'immigrazione mi sembra un modo del tutto incivile. Lascio anche questa lettera agli atti proprio per questi motivi e per evitare che questo invio senza che le Regioni siano coinvolte annunciato dalla stampa per quanto riguarda la Regione Lombardia mi ha indotto a prendere un'altra iniziativa che vi comunico in anteprima. Dicevo proprio queste valutazioni e questa incapacità di gestione e improvvisazione è la mia valutazione, la mia opinione ovviamente nell'invio di persone che non hanno alcuna verifica preventiva sullo stato di salute e sono messi in posti a noi sconosciuti mi ha indotto e la do in anteprima come notizia a scrivere un'altra lettera ai prefetti che mando questa mattina ai prefetti della Lombardia del seguente letterale tenore Eccellenze, ho appreso da notizie di stampa dell'imminente trasferimento in Lombardia di ulteriori 500 immigrati su disposizione del Ministero dell'Interno. Vi invito a segnalarmi con cortesa sulle cittudine 1. Se queste notizie sono confermate 2. Le date di arrivo 3. Il piano di assegnazione provincia per provincia 4. Le strutture individuate sul territorio regionale per la sistemazione degli immigrati Tutto ciò al fine di consentire alle ASLA competenti di verificare tempestivamente la presenza delle condizioni minime igienico-sanitarie, in particolare se si farà ricorso ai mobili dismessi Confido nella vostra collaborazione per far sì che questa Regione possa svolgere i controlli di competenza anche per prevenire possibili rischi sul fronte della salute pubblica Grazie Presidente Questa è la posizione della Regione Lombardia Io ho deciso di prendere un'iniziativa che è simmetrica a quella annunciata dal Presidente Renzi che ha annunciato che interverrà per ridurre e annullare il patto di stabilità cosa che immagino conosciamo tutti bene Nei confronti dei comuni, dei sindaci che accoglieranno gli immigrati il patto di stabilità penalizza fortemente i 1540 comuni della Regione Lombardia Abbiamo un residuo, hanno nelle loro casse oltre 2 miliardi di euro che non possono spendere a causa del patto di stabilità Questa impossibilità di spendere comporta molte conseguenze La più grave è il fallimento di tante aziende lombarde che non possono ricevere i pagamenti della pubblica amministrazione Non perché i sindaci non abbiano i soldi ma perché non possono spendere per il patto di stabilità Ora il Presidente Renzi ha annunciato che consentirà la deroga al patto di stabilità non per pagare i debiti che si hanno nei confronti delle imprese ma per accogliere e sistemare gli immigrati Anch'io ho il patto di stabilità La Regione Lombardia, come sapete, come le altre regioni ha il cosiddetto patto di stabilità verticale sono oltre 200 milioni di euro l'anno per quanto riguarda la Regione che viene spazi di spesa che vengono dati ai comuni sulla base di certi requisiti, di certi criteri Ora, considerato che, dalle parole del Presidente del Consiglio il patto di stabilità si può modulare in questa direzione farò anch'io la stessa cosa in senso contrario ovviamente, in senso simmetrico, non in senso contrario Da ultimo, che cosa fare per sospendere Schengen, per esempio è un'iniziativa, beh, la proposta l'ha fatta Beppe Grillo e io ho puntualizzato che viene in ritardo perché io l'avevo fatta a gennaio questa proposta ma l'avevo fatta a gennaio non legata al tema dell'immigrazione ma legata alla sicurezza su Expo sono due cose diverse è un'opinione, basta vedere le immagini si vede che cosa succede a Mentone per esempio, la Polizia Francese di fatto sta sospendendo Schengen perché sta effettuando dei controlli alla frontiera che per l'accordo di Schengen non potrebbe fare e anche questo andrebbe rilevato, io credo al di là di questo, che cosa fare? La mia indicazione, la mia proposta condivisa peraltro non solo da me ma anche da altri esponenti politici mi pare, è quella di bloccare le partenze bloccare le partenze non bombardando i barconi ma impedendo loro di partire e impedendo loro di partire si può fare in vari modi con il blocco navale ma meglio ancora sarebbe con un'iniziativa della comunità internazionale delle Nazioni Unite che vanno, devono andare in Libia e fare dei campi profughi organizzare dei campi profughi come venne fatto per esempio in Tunisia nel 2011 dopo la cosiddetta primavera araba per accogliere queste persone che tentano di scappare da situazioni molto diverse naturalmente e che affrontano il rischio della morte in mare per venire in Europa non in Italia ma in Europa se non c'è un'emergenza umanitaria se questa non è un'emergenza umanitaria non capisco cosa sia un'emergenza umanitaria si parla di cifre straordinariamente elevate 500.000 persone pronte a partire 500.000 persone è un numero incredibilmente alto non c'è governo in Libia che possa oggi bene, l'intervento della comunità internazionale delle Nazioni Unite è fatto proprio perché c'è un'emergenza umanitaria e lì non c'è una situazione in grado di governare questa emergenza umanitaria io credo che ci siano tutti i presupposti e le condizioni e secondo me il governo italiano dovrebbe spingere in questa direzione presso le Nazioni Unite presso l'Unione Europea per fare in modo che lì vengano realizzati questi campi profughi lì si potrebbe allora fare la verifica che oggi fanno le commissioni territoriali impiegando peraltro di media 8-9 mesi per verificare se ci sono i requisiti per la protezione internazionale quella internazionale e quella europea che è un po' diversa e da lì poi ripartirli nei paesi dove queste persone vogliono andare secondo il principio del burden sharing che venne proposto già nel 2010 nel 2011 in Europa ma già allora l'Europa rispose picche questa è la soluzione questa è la soluzione si può fare tecnicamente giuridicamente io sono sicuro di sì occorre una spinta politica forte perché mi rendo conto che nessun paese europeo è felice di accogliere i migranti però visto soprattutto l'esito negativo dell'iniziativa del governo in Europa e dell'altro ieri la notizia che la decisione non verrà rinviata a luglio come qualcuno ha scritto verrà rinviata alla presidenza di turno che inizia a luglio del Lussemburgo se non ricordo male e quindi a settembre cioè dopo l'estate dopo che durante l'estate si sa i flussi aumentano e quindi il rischio è che si arrivi a gestire una situazione davvero ingestibile questa secondo me è l'iniziativa che il governo deve prendere parallelamente ho suggerito all'amico ministro dell'interno Angelino Orfano che ho detto che avrebbe fatto quello che io ho fatto da ministro dell'interno di fare esattamente quello che io ho fatto perché nel 2011 quando ci fu la crisi tunisina anche lì ci fu un'emergenza straordinaria i dati dicono gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno 2011 febbraio marzo aprile maggio giugno in cinque mesi arrivarono 47.000 immigrati circa qui lascio la tabella poi con i numeri perché poi si fermarono da luglio del 2011 in poi perché il governo italiano nella mia persona nella persona del ministro degli esteri fecero il giro dei paesi di partenza e organizzarono le cose in modo tale da bloccare le partenze questo bisogna fare ma contemporaneamente la soluzione è quella che ho detto c'è un intervento forte delle Nazioni Unite per impedire le partenze così si risolverebbero tutti i problemi